La fiction televisiva agisce nel presente, quando racconta la storia tendenzialmente lo fa anche per parlare del presente. Soprattutto in questi ultimi anni è stato fatto un lavoro legato al passato recente, a decenni che in qualche modo abbiamo vissuto, parte del pubblico ha vissuto e quindi può conoscere. Questo è un aspetto che secondo me va messo in risalto soprattutto del periodo drama più recente, soprattutto in Italia. Aiuta alla comprensione della storia il fatto che si decida o si provi a ragionare su questioni della nostra identità e della nostra storia che sono rimaste in qualche modo in sospeso. Una serie tv ambientata nel passato piuttosto recente che ha fatto un ottimo lavoro a mio parere su un decennio in relazione al presente è Mad Men. Il creatore di Mad Men, Matthew Weiner, una volta ha dichiarato che la sua intenzione iniziale era quella di andare a curiosare nella stanza dei suoi genitori. La sua volontà era quella di andare lì, curiosare e vedere che cosa trovava negli armadi chiusi. E questo è un lavoro che secondo me ha fatto in modo magistrale proprio lasciando la storia sullo sfondo e concentrandosi sulle vite e sui desideri di quella generazione che è stata molto, come dire, è stato un discrimine molto importante nella storia degli Stati Uniti. Autori seriali è un numero speciale di Link fatto interamente di interviste ai protagonisti della produzione seriale italiana. La scelta di questi protagonisti non è casuale perché la nostra intenzione era quella di indagare chi fosse l'autore della fiction italiana. Oggi ci troviamo in una situazione in cui appunto si è definita questa figura per certi aspetti mitologica dello showrunner. Dico mitologica perché di fatto non c'è neanche nei credits. Però l'esigenza di avere una voce unica come accade nel cinema con il regista che si faccia, come dire, responsabile di questo universo finzionale che viene portato sullo schermo è sentita sempre più anche in Europa. Probabilmente è iniziato in Danimarca sulla rete pubblica di R1 l'utilizzo di questo modello. Anche in Italia lentamente sta emergendo questa necessità.